Un programma piuttosto vario che vado in conto un momentino a tutti i gusti, però anche allo stesso tempo simbolico, perché in un periodo in cui i simboli magari sono un po' trascurati decadenti, penso sia opportuno riprendere qualche simbolo per dare i segnali. Quindi il primo brano che vi proponiamo è Kondakum, non so se avete i programmini di Sada, mi avevano detto che c'era, ma non importa. Kondakum di Yaman der Roste che è un compositore irlandese e questo descrive praticamente la costruzione di una strada romana, nell'antica Roma che viaggiava per tutta l'Europa e quindi mi sembra che vada bene per una circostanza del genere aprire un concerto con l'inizio della civiltà contemporanea portata da Roma. Grazie. 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 Grazie.